Signore e signori buonasera dal dicembre del 1998 dieci anni fa tantissimi allievi della scuola media di Paul Saint-Martin hanno condiviso con impegno e passione una bella avventura musicale e hanno costruito la storia del nostro cuore. Il nostro je de main, je de main, è un piccolo omaggio a tutti quelli che hanno cantato e sono cresciuti con noi. La gestualità è molto importante, è uno strumento che dà emozioni e che permette di comunicare. Con il linguaggio dei segni, con i giochi infantili, come il classico canto della bella lavanderina qui nella versione catalana. Ma le mani sono anche quelle che credono e sono anche quelle che agiscono di fatti sottosi, quelle che hanno in mano il futuro della nostra società, della nostra cultura e che ne sigillano i valenti cruciali. E infine, sono i battimoni che accompagnano la festa e la gioia. Buon assolto. Mani che spingono, mani che parlano, mani che spingono, mani che spingono. mani che spingono, mani che spingono su tanti visi, smorche gaziote e lievi sorrenti, mani a macita e mani a colori, mani che cantano il ritmo dei voli. mani che spingono, mani che spingono, mani che spingono, mani che spingono, mani che spingono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.